E sì, dopo le abbuffate natalizie c'è bisogno di una bella dieta dimagrante, ma soprattutto depurativa. Bisogna seguire assolutamente un regime alimentare a basso contenuto calorico, con un alto tasso di alimenti drenanti e depurativi, da seguire per un'intera settimana dopo gli stravizi alimentari del Natale. La dieta depurativa e dimagrante del dopo festa prevede 5 pasti quotidiani. Colazione, pranzo, cena e due spuntini, uno mezza mattinata e uno per il mezzo pomeriggio. Naturalmente sempre frutta fresca di stagione, in modo da spezzare l'appetito nei pasti principali. Bere circa due litri di acqua al giorno ed accompagnare il tutto con una passeggiata veloce di circa 20 minuti al giorno. Per la colazione fette biscottate con marmellata ed una tazza di latte o yogurt è l'ideale. A pranzo verdure a volontà con pasta integrale, olio extravergine di oliva e carni magre piastrate. Per cena, minestrone light, con merluzzo, olio extravergine di oliva e pane integrale. Naturalmente le quantità sono indicative e variano a seconda del metabolismo e da uomo a donna. Quindi conviene sempre affidarsi in seguito ad un professionista del settore che eseguirà un'analisi bioimpedenziometrica per continuare il giusto percorso. E allora cosa augurarci? Buon Natale!